buona sera a tutti voi ben trovati al tg 2000 in apertura all'allarme conti pubblici nell'ultimo rapporto di oggi dell'ox e l'organizzazione internazionale cooperazione sviluppo bocciata quota 100 rallenterà la crescita si legge negativi anche i dati sulla disoccupazione allora il punto è l'analisi con luciano piscaglia è sempre più debole l'economia italiana e serviranno a poco le principali misure adottate dal governo a lanciare l'allarme è l'ox e secondo la quale nel 2019 il nostro prodotto interno lordo farà segnare meno 0,2 per cento salirà al 2,5 per cento il rapporto deficit pil e il rapporto del debito pubblico sul pil crescerà dal 132 al 134 per cento l'ox e conferma quindi la recessione del secondo semestre del 2018 e le previsioni dello stesso ministro tria che vede un'economia italiana vicina allo zero ma lancia anche un allarme sulle misure cardine del governo quota 100 rallenterà la crescita nel medio termine e aumenterà il debito pubblico mentre il reddito di cittadinanza avrà scarsi effetti sulla crescita e alimenterà il lavoro nero anche il tasso di disoccupazione crescerà dal 10,6 al 12 per cento e su questo l'ox e sembra confermare i dati istat diffusi in mattinata con la disoccupazione che a febbraio tocca più 10,7 per cento e l'occupazione che perde lo 0,1 per cento rispetto a gennaio un calo che interessa soprattutto chi è tra i 35 e i 49 anni e i dipendenti a tempo indeterminato mentre crescono i dipendenti a termine in leggero miglioramento il tasso di disoccupazione giovanile che a febbraio si attesta al 32,8 per cento ma è ancora di 14 punti superiore al minimo pre crisi che nel febbraio 2007 era del 19,4 per cento e sul fronte politico i nodi economici suscitano preoccupazioni e tensioni nel governo chiuso il congresso di verona nel documento economico spuntano adesso misure alla francese pannolini e babysitter ma il sottosegretario spadafora archivia il disegno di legge leghista sulla famiglia augusto cantelmi no alle intromissioni sappiamo quello che facciamo i dati preoccupanti dell'ox e soffiano sul fuoco acceso della polemica politica di maio invita l'organizzazione a fare austerità in casa sua per salvini quota 100 darà lavoro a più di 100 mila giovani tria si aspetta invece risultati migliori soprattutto nel rapporto deficit pill ma i numeri dell'ox e sul cattivo stato di salute del paese giungono alla vigilia dell'incontro slittato domani del presidente della commissione juncker con il premier conte e lo stallo dell'economia prospettato dall'organizzazione internazionale diventa tema di confronto d'altronde lo stesso juncker nell'apparizione televisiva di ieri aveva ribadito i rischi di possibili complicazioni per l'italia senza una strategia di crescita parole che alimentano la protesta delle opposizioni nei confronti della politica del governo il vero guaio di questa situazione che il governo non ha strumenti per fronteggiare questa situazione che si sta deteriorando di giorno in giorno il governo prova a ricompattarsi ma resta acceso lo scontro dopo la termessa di verona sulla famiglia per di maio nel documento di economia e finanza ci saranno misure per famiglie sul modello francia con sconti sui pannolini e sulle spese per la babysitter mentre per il sottosegretario alla presenza del consiglio spadafora il contestato di segno di legge pillon sull'affido dei figli ai genitori separati non arriverà mai in aula fra le principali questioni aperte in tema di riforma del diritto di famiglia il capitolo adozioni tempi lunghi costi troppo alti è un sistema non sempre cristallino attorno ai minori pierluigi vito gli ultimi batti becchi della politica sulle adozioni stridono al cospetto di una realtà che vive momenti difficili sulla pelle delle persone dopo che la delega al governo nella passata la legislatura non ha prodotto frutti ora c'è un nuovo disegno di legge dell'opposizione che vede come primo firmatario il pd rosato e la lega annuncia di voler presentare una propria proposta certo è che il settore a 36 anni dalla normativa di riferimento necessita di attenzione lo dicono i numeri le adozioni internazionali in otto anni si sono ridotte dei due terzi da oltre 4.000 a meno di 1.400 mentre ci sono 3.700 coppie in attesa di accogliere nuovi figli le ragioni di tale contrazione sono diverse la crisi economica che ha colpito le famiglie italiane le difficoltà nell'affrontare il percorso di adozione che presenta una durata in media di tre anni e costi elevati che possono raggiungere i 40.000 euro a bambino la maggiore facilità ad accedere alla fecondazione in vitro e ad aggirare il divieto di utero in affitto ma pure la decisione di alcuni paesi etiopia e polonia su tutti di bloccare le adozioni internazionali vengono principalmente da nazioni europee i bimbi che hanno trovato una nuova famiglia in italia a seguire ci sono quelli che vengono dalle americhe dall'asia e dall'africa le adozioni nazionali invece non prevedono costi ma tempi più lunghi sono circa 400 ogni anno le donne che non riconoscono i figli partoriti gli unici per i quali l'adottabilità è praticamente immediata e nel 2016 sono stati 902 bambini accolti in nuove famiglie formate anche da single che in casi particolari hanno avuto accesso all'adozione anche i motorini 125 potranno andare in autostrada se a guidarli c'è un maggiorenne una delle novità in arrivo con l'approvazione in agenda a maggio del nuovo codice della strada il testo base recapitato oggi a tutti i gruppi parlamentari per le modifiche ma sostanzialmente c'è l'intesa della maggioranza altra novità si potrà andare in bici in contromano resta invece da discutere l'innalzamento del limite di velocità in autostrada a 150 chilometri all'ora andiamo all'estero in turchia per le amministrative colpo a erdogan che vince sul piano nazionale ma perde ancara e notizie di poco fa anche istanbul antonio saviero poi il commento del giornalista alberto negri se guardiamo ai numeri complessivi la coalizione del presidente turco erdogan ha vinto le elezioni amministrative di ieri con ben oltre il 51 per cento dei voti ma la notizia vera di questa tornata elettorale viene dal risultato nelle grandi città dove il sultano ha preso una bella mazzata persa dopo 16 anni la capitale ancare molte grandi città la battaglia finale si gioca su istanbul dopo la sospensione dello spoglio poco fa è stato dichiarato sindaco della metropoli sul bosforo cuore economico e culturale del paese il repubblicano e crema imamoglu il candidato dell'opposizione laica ha raccolto 25 mila voti in più rispetto all'ex premier binali il dirim fedelissimo di erdogan ma si pensa già ai ricorsi mentre la lira turca perde oltre il 2 per cento sul dollaro l'europa manifesta dubbi sulla regolarità del voto non siamo convinti che nel paese ci sia l'ambiente elettorale libero e giusto necessario per elezioni genuine democratiche in linea con i valori i principi europei afferma il capo degli osservatori europei andrew dozon erdogan paga anzitutto due cose la deriva islamista e le difficoltà di un'economia entrata in recessione negli ultimi tre mesi del 2018 erdogan forse non è un sultano dimezzato ma certamente la sua stella si sta offuscando questo ci dice il voto delle amministrative in turchia soprattutto in quei grandi centri urbani dove la classe media non è più attirata da quel messaggio dell'islam politico che ha caratterizzato erdogan in questi anni pensate che alla vigilia delle elezioni aveva addirittura promesso di far tornare moschea la basilica di santa sofia come sotto l'impero ottomano ebbene questo non è bastato ad attirare ad attirare gli elettori cosa succederà adesso probabilmente come tutti i reis feriti erdogan reagirà con grande violenza forse con il pugno di ferro cercherà in tutti i modi di tenere sotto scacco il paese intanto ha già fatto un annuncio fino al 2023 non ci saranno elezioni in ogni modo vuole arrivare capo in contrastato del paese fino al centenario della repubblica laica fondata da taturk il dramma del popolo venezuelano il presidente maduro annuncia un piano razionamento elettrico da oggi e per un mese luce a intermittenza e soltanto per poche ore al giorno un milione di persone a rischio per fame e sete vito dettorre da sabato notte il venezuela è di nuovo al buio ospedali e uffici pubblici chiusi servizi essenziali sospesi per questo motivo maduro ha annunciato alla nazione un piano di contingentamento dell'energia elettrica per consentire la riparazione delle infrastrutture energetiche in molte zone del venezuela mancano anche il gas e l'acqua e in assenza di alternative ecco come i cittadini di caracas si riforniscono d'acqua la fila può durare anche ore e nella disperazione c'è chi prende l'acqua dai canali di scolo nelle gallerie il rio guaire attraversa la città di caracas ed è utilizzato anche come valvola di sfogo per le fognature ecco perché si teme un'epidemia di colera da un momento all'altro la caritas venezuelana non smette di raccomandare ai cittadini di bollire l'acqua e in assenza di fuoco di lasciare le bottiglie di plastica esposte al sole per almeno due giorni protestiamo dice questa signora perché siamo senza luce ormai da un mese non abbiamo acqua potabile quel poco di cibo che abbiamo è impossibile conservarlo queste sono le ragioni per cui protestiamo concluso il viaggio del papa in marocco chi costruisce muri in arresta prigioniero ha detto francesco questione migratorie dialogo interreligioso soltanto due dei temi principali su cui la nostra vaticanista cristiana caricato intervista il direttore editoriale del di castello vaticano per la comunicazione andrea tornielli ascoltiamo ma è un viaggio che viene dopo quello sugli emirati è stato un viaggio di amicizia nei confronti di un paese musulmano dove il re è anche la massima autorità religiosa e questo clima di amicizia si è visto sicuramente anche se al centro è stato non tanto e non soltanto il dialogo tra cristiani i musulmani ma anche il grande tema degli immigrati a cui un tema a cui il papa tiene molto come abbiamo visto al discorso che ha pronunciato ieri anche un tema su cui la chiesa in questa in questo angolo del nord africa si gioca la sua missione sì ed è stato bellissimo vedere al centro caritas i migranti e come il papa ha parlato con loro e di loro parole del pontefice che sono anche una lezione per l'europa io credo di sì sono lezione per l'europa e sono innanzitutto una lezione per la chiesa noi dobbiamo capire che queste persone soffrono sono l'immagine della sacra famiglia di nazareth esula rifugiata i governi la politica deve fare il suo il suo corso il suo dovere accogliere solo chi può integrare ma un cristiano non può non vedere esseri umani che soffrono e dunque riconoscere il volto di cristo in queste persone ed è il via da oggi pomeriggio fino a dopo domani il consiglio episcopale permanente senza dialogo dice il cardinal bassetti si arriva a contrapporre le piazze persino su un tema prioritario come la famiglia leonardo possati camminare e affrontare insieme le difficoltà e i problemi e questo lo stile che chiede il cardinale gualtiero bassetti alla chiesa italiana laici compresi a partire da una questione che in questi giorni molto ha fatto discutere la famiglia tema sul quale non è possibile dividersi e al quale le istituzioni devono guardare come fatto sociale che per sua natura riguarda tutti i vescovi italiani forti di una ricca tradizione invitano a mettere a punto un pensiero sulla famiglia che sia valido per il tempo di oggi da qui da questa presa di coscienza nasce la risposta al declino demografico al ruolo della donna nella società e al lavoro un lavoro che dia dignità alla persona e soprattutto ai giovani affinché divengano protagonisti della società nella quale vivono guardando poi alla vita della chiesa in questa settimana di lavoro i vescovi italiani sono chiamati a promuovere una politica dell'incontro della fraternità che aiuti a superare la profonda solitudine che segna la vita di tanti per fare questo la via da perseguire indicata dal cardinale presidente è quella della collaborazione fraterna a tutti i livelli dai consigli diocesani a quelli parrocchiali vi è poi il delicato tema dei minori cui i vescovi dedicheranno un'attenzione particolare per stabilire misure concrete e far sì che la chiesa sia sempre più una casa sicura per i bambini ora la cronaca paura a roma nel pomeriggio alle 16 colpi d'arma da fuoco in strada fra la gente nei pressi del petibar in via stilicone al tuscolano due uomini rimasti feriti alle gambe sottoposti a intervento in ospedale a sparare altri due uomini a bordo di uno scooter poi fuggiti ceffoni e pedate sugli anziani ospiti in una casa di riposo la cronaca ci porta a catanzaro 11 gli avvisi di garanzia fra dirigenti e infermieri con letizia davoli le immagini shock tutto è partito dai sospetti delle famiglie di alcuni ospiti della struttura che hanno denunciato dei presunti maltrattamenti ai danni dei loro congiunti e purtroppo erano nel giusto una serie di intercettazioni audio e video alcune perizie da parte di specialisti hanno portato la guardia di finanza di catanzaro a iscrivere nel registro degli indagati 16 dipendenti della residenza sanitaria assistenziale san francesco ospital di settingiano per due di loro sono scattati gli arresti domiciliari per altri tre il divieto di demora nel comune dove assiede la struttura tra gli altri 11 raggiunti da visi di garanzia ci sono anche il direttore sanitario e quattro infermieri professionali l'accusa per tutti è di maltrattamenti sequestro di persone lesioni colpose aggravati dall'aver agito approfittando delle circostanze tali da ostacolare la privata difesa dalle immagini dei dialoghi registrati dai finanzieri emergono vessazioni percosse insulti agli anziani ospiti spesso anche derisi e minacciati anche nel sonno ammucchiati in un corridoio sotterraneo che fungeva da sala comune erano costretti ad addormentarsi seduti o stare zitti per non disturbare l'operatore di turno un incubo che sarebbe stato possibile evitare se il disegno di legge sull'uso delle telecamere negli ambienti pubblici destinati agli anziani e minori fosse già operativo ma approvato per due volte alla camera nel 2016 nel 2018 si è impantanato nuovamente come la prima volta al senato svolta nel caso di stefano leo il 34enne lo ricorderete ucciso a torino lo scorso 23 febbraio si costituisce un 27enne e svela un movente sconvolgente lo accoltellato perché mi sembrava felice e non sopportavo la sua felicità silvio vitelli è un movente sconvolgentemente banale volevo ammazzare un ragazzo come me togliergli tutte le promesse che aveva figli amici e parenti volevo uccidere un giovane una persona alla cui morte avesse una buona risonanza non un quarantenne di cui poi non avrebbe parlato nessuno ho scelto tra le tante persone che passavano di uccidere questo giovane perché si presentava con aria felice e io non sopportavo la sua felicità parole pronunciate da saeed machauati ragazzo di 27 anni che ha confessato ai carabinieri di aver accoltellato il 33enne stefano leo lo scorso 23 febbraio in rival po a torino nato in marocco era arrivato in italia quando aveva sei anni nel 2015 si era separato dalla moglie aveva un precedente per maltrattamenti in famiglia dopo aver perso il lavoro da cuoco negli ultimi mesi aveva vissuto ad ibiza e in marocco per poi tornare a torino senza casa nel lavoro ha raccontato che l'arma del delitto l'aveva riposta in una cassetta elettrica perché forse l'avrebbe utilizzata nuovamente la paura di poter uccidere ancora l'ha portato a costituirsi riferiscono i carabinieri non sapeva se suicidarsi o compiere altri fatti di sangue a proposito di lotta al crimine a un mese dall'apertura la palestra della legalità conta più di 500 abbonamenti e la risposta dei cittadini di ostia e clan locali beatrice bossi il passato il futuro di ostia distano solo pochi metri di distanza a piazza gasparri quartier generale del clan spada la palestra febus alla saracinesca abbassata il titolare in carcere con l'aggravante del metodo mafioso per la famosa testata ad un giornalista della rai poche decine di metri più là in via dell'idroscalo c'è invece la palestra della legalità ad un mese dall'apertura i cittadini hanno fatto capire chiaramente da che parte stanno abbiamo già superato da tempo i 500 abbonati ci dicono mi raccomando tenete duro andate avanti quindi perché è evidente che in questo quartiere come in altre periferie la diffidenza e la sfiducia è forte rispetto a situazioni consolidate negli anni però noi abbiamo dato un segnale di cambiamento che credo sia stato raccolto nel 2016 il palazzetto è stato confiscato al patron del porto turistico finito in carcere per bancarotta fraudolenta poi l'accordo dell'asilo savoia con il tribunale il sostegno della regione lazio e l'inizio dei lavori un mese fa l'inaugurazione e la stampa della prima tessera intestata al presidente della repubblica comunque abitando in zona sono venuta a conoscenza della palestra mi ci sono segnata subito sono stata una delle prime la palestra la meglio che c'è nel territorio e mi piace questa è una bellissima cosa spero che ne facciano altre di queste cose sono ancora disponibili una cinquantina di abbonamenti gratuiti per i redditi più bassi e agevolazioni poi per studenti e anziani ma le sfide non finiscono qui entro giugno saranno inaugurati anche i locali al piano terra con nuovi spazi per le arti marziali e il judo tutti in palestra ma adesso torniamo per un attimo al viaggio del papa in marocco fra i momenti più toccanti l'attimo in cui francesco ha abbracciato e baciato la mano a fratele jean pierre ultimo sopravvissuto oggi 95 anni alla strage del 96 dei monaci di tibirin fabio bolzetta un lungo applauso mentre il papa si alza per salutarlo personalmente e baciare quella mano sopravvissuta alla violenza nel viaggio di papa francesco in marocco il fuori programma all'interno della cattedrale di rabat durante l'incontro con i sacerdoti religiosi e consacrati perché frere jean pierre oggi ultranovantenne è l'unico dei sopravvissuti alla strage di tibirin in algeria nei pressi della città di medea a circa 90 chilometri a sud della capitale è la notte del 27 marzo 1996 quando sette monaci trappisti del monastero di nostra signora dell'atlante vengono sequestrati e uccisi come ha ricordato lui stesso all'agenzia sir non c'era il cancello solo una porticina di ferro ci siamo svegliati per il rumore di voci davanti alla porta allora ho pensato eccoli il 21 maggio del 1996 il gruppo islamico armato che propone alla francia uno scambio di prigionieri tutti di nazionalità francese rivendica prima il rapimento poi ne annuncia l'uccisione vengono trovate le loro teste ma i corpi la chiesa quattro mesi fa con la loro beatificazione ne ha riconosciuto il martirio guardo fuori dalla finestra vedo entrare uno con il passamontagna e il fucile in spalla non potevo vedere gli altri perché erano dietro il prolungamento del muro però li sentivo ed ora andiamo a torino col tg post per la raccolta speciale di cibo per le mense e gli empori di caritas e parrocchie l'iniziativa si chiama pane nostro coinvolge anche 15 mila bambini delle scuole torinesi ce la racconta già mario ricciardi a seguire sport 2000 stasera si parla della clericus capo il campionato di sacerdoti e seminaristi il tg 2000 torna alle 20 e 30 grazie per l'attenzione arrivederci